Siamo già in onda? Sicuri? Ciuffo ce l'ho giù? Ce l'ho abbassato? E' già partito? Ah, buonasera a tutti quanti allora. Ancora questa... Questo venerdì sera ci vediamo per la Catechesi che ci aiuta in questo tempo di Quaresima e ci aiuta anche un po' a riflettere su questi giorni. Oggi il Papa diceva in questo momento stupendo che abbiamo vissuto l'avete visto camminare da solo sotto la pioggia nella piazza San Pietro deserta l'avete visto accogliere tutta l'umanità idealmente in questo abbraccio del colonnato e l'avete sentito dire che questo tempo è un tempo non tanto di giudizio da parte di Dio ma è un tempo di scelta. Allora il Signore ci sta aiutando con questa Quaresima così particolare a fare una vera scelta nella nostra vita. ciò che c'è importante su ciò che era vuoto e su quello che è importante mantenere e rafforzare per ricominciare. Oggi pensavo che questi giorni che stiamo vivendo sono giorni di esilio e di prigionia. E la parola di Dio i pezzi più belli della parola di Dio nascono proprio in contesti simili in contesto di esilio quando il popolo di Israele è lontano dal Tempio e ha nostalgia delle belle liturgie della gioia di stare al Tempio delle processioni di avere un luogo in cui Dio era vicino aveva nostalgia ma poi si rende conto che il Signore non li ha abbandonati anche nell'esilio anche in un regime oppressivo anche lontani da casa anche quando non si sentivano al posto giusto Dio non li ha abbandonati. E poi in prigionia sapete che gran parte del Nuovo Testamento o meno tra le parti più belle del Nuovo Testamento vengono scritte in prigionia o raccontano di prigionie come quelle di Paolo per esempio sapete che gli atti di apostoli si concludono col fatto che Paolo è a Roma in quarantena potremmo dire cioè un domicilio coatto però annunciava il Vangelo con franchezza e senza nessun impedimento cioè in piena libertà ecco che nella scrittura l'esilio diventa il luogo della vicinanza del Signore e la prigionia il luogo della libertà allora anche per noi questi giorni di esilio di lontananza forzata dagli affetti dalle abitudini dai luoghi può diventare un tempo della vicinanza e la prigionia cioè non poter uscire di casa può diventare un'esperienza di vera libertà questa è anche l'esperienza dei Santi sapete oltre San Paolo tanti sono i Santi che hanno vissuto l'esilio e la prigionia un Santo che ha vissuto l'esilio per esempio è San Giovanni Crisostomo che era Vescovo di Costantinopoli nel V secolo litiga fortemente con la moglie dell'imperatore che si vendica e lo caccia in esilio e allora lui dall'esilio scrive una lettera alla comunità di Costantinopoli che lo attendeva e dice così vi leggo alcune alcune frasi che oggi mi hanno colpito tanto dice molte minacciose tempeste ci sovrastano ma non abbiamo paura di essere sommersi perché siamo fondati sulla roccia infuri pure il mare non potrà sgretolare la roccia si innalzino pure le onde non potranno affondare la nave di Cristo cosa dovremmo temere la morte per me vivere è Cristo e morire è un guadagno cosa dovremmo temere l'esilio del Signore la terra e quanto contiene cosa dovremmo temere la confisca dei beni non ho portato nulla in questo mondo e nulla posso portare via la sicurezza mi viene dal fatto che il Signore dice dove sono due o tre uniti nel mio nome io sono là in mezzo a loro e non sarà presente laddove si trova un popolo numeroso unito dai vincoli della carità mi appoggio forse sulle mie forze no perché ho il suo pegno ho con me la sua parola questa è il mio bastone la mia sicurezza il mio porto tranquillo anche se tutto il mondo è sconvolto ho tra le mani la sua scrittura leggo la sua parola essa è la mia sicurezza e la mia difesa ed egli mi dice io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo Cristo è con me di chi avrò paura anche se si innalzano contro di me i cavalloni di tutti i mari o il furore dei principi tutto questo per me vale meno di semplici ragnatele ripeto sempre Signore sia fatta la tua volontà farò quello che vuoi tu non quello che vuole il tale o il tal'altro questa è la mia torre la mia pietra inamovibile il bastone del mio sicuro appoggio se Dio vuole questo bene se vuole che io rimanga lo ringrazio dovunque mi vorrà gli rendo grazie dove sono io la siete anche voi dove siete voi ci sono anch'io noi siamo un solo corpo e non si separa il capo dal corpo nel corpo dal capo anche se siamo distanti siamo uniti dall'amore anzi neppure la morte ci può separare ma vedete che parole forti piene di fuoco queste di Giovanni Crisostomo non ho paura perché il Signore è con me non ho paura perché in mezzo ai marosi alle tempeste della vita ho con me un porto sicuro e che cos'è questo porto sicuro questa salda di mora la parola di Dio la sua parola guardate in esilio lontano dalle cose dal suo popolo dalla sua cattedrale dalla sua città sperimenta che ha la parola di Dio a tutto un altro santo che ha sperimentato la prigionia un tempo molto più recente è un pastore protestante che si chiama Dietrich Bonhoeffer Bonhoeffer venne arrestato nella Germania nazista nell'aprile del 1943 perché stava preparando una serie di attentati poi purtroppo falliti contro Hitler lui è un gruppo di di cospiratori alcuni cattolici e altri protestanti con la benedizione del santo padre del papa Pio XII mentre preparavano questi attentati vennero scoperti e venne tenuto per due anni in prigione fino a che venne giustiziato nell'aprile del 1945 quando ormai la Germania stava per essere liberata nella prima Pasqua nella quale si trovava prigioniero scrive una lettera molto bella ad un carissimo amico nel quale dice una cosa che in questo carcere ho capito una cosa che celebrare la Pasqua significa vivere a partire dalla risurrezione le persone infatti vivono non sanno a partire da cosa vivono gli animi sono spesso perturbati attendiamo sempre qualche cosa che ci liberi ma non è ancora il tempo in cui questa parola liberante potrà essere unita ma verrà questo tempo e questa Pasqua è l'ultima delle grandi occasioni per prepararci ai compiti futuri allora vivere appunto nell'oscurità di questo carcere nazista Bonèfri scopre che il Signore lo chiamava a vivere adesso a partire dalla Pasqua e celebrare questa Pasqua come la faremo noi tra pochi giorni così strana così diversa delle altre che abbiamo celebrato ci servirà per i compiti per la missione futura che il Signore ci attende vivere a partire dalla Pasqua la Quaresima vorrebbe aiutarci a desiderare proprio questo vivere a partire non da quello che ci piace dai progetti dalle agende ma vivere a partire dalla Pasqua allora rivolgiamoci adesso a questo porto sicuro che ci aiuta in questo tempo di Quaresima che è la Parola di Dio e insieme brevemente meditiamo la liturgia della Parola della Domenica Prossima Quinta di Quaresima queste domeniche la terza la quarta e la quinta Domenica di Quaresima sono accomunate tante volte abbiamo detto che erano dei momenti nella preparazione al battesimo fondamentali nei quali coloro che sarebbero stati battezzati a notte di Pasqua ricevevano degli scrutini cioè dei momenti di verità nel quale venivano aiutati a guardare nel profondo del loro cuore e dei momenti di grazia nei quali il demonio veniva cacciato dal loro cuore questi momenti di grazia e di verità sono anche per noi che già siamo stati battezzati e che nella quaresima scopriamo come diventare di nuovo cristiani e i tre Vangeli che abbiamo ascoltato in queste domeniche quello della Samaritana quello del cieco nato e oggi quello di Lazzaro sono tre momenti particolari nei quali il Signore dialoga con noi e non vorrei dire soltanto dialoga ma affronta con forza le grandi domande dell'uomo tutti noi ci portiamo dentro delle domande degli interrogativi bene la quaresima è questo tempo nel quale Cristo affronta prende di petto queste grandi domande nella terza domenica di quaresima quella della Samaritana il Signore mostra come prende a cuore la nostra solitudine la nostra esclusione da qui la domanda della Samaritana dove bisogna adorare dov'è Dio il Signore prende sul serio questa domanda che nasconde la grande solitudine Dio di fronte la solitudine dell'uomo domenica scorsa domenica del cieco nato il Signore si mette di fronte la cecità l'oscurità dell'uomo e la domanda che gli pongono i suoi discepoli chi ha peccato perché questo male perché la sofferenza prima domenica la domanda sulla solitudine la seconda domenica la domanda sulla sofferenza in questa in questa quinta domenica la domenica di Lazzaro il Signore si mette davanti al problema più grande dell'uomo che è la morte dice il concilio Vaticano II in faccia alla morte il problema il mistero della vita dell'uomo diventa sommo diventa grandissimo e questo problema è espresso non tanto da una domanda come appunto nelle domeniche precedenti quella della Samaritana e quella dei discepoli del Signore quanto da un'accorata esclamazione di Marta e di Maria un'esclamazione che viene dal profondo del cuore che ha il sapore di una constatazione disillusa è la frase che dicono a Cristo quando lo incontrano se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto come a dire dove stavi dove eri se tu ci fossi stato questo non sarebbe successo più che una domanda è ormai una constatazione senza più forza né senza più pretesa che le cose possano cambiare a partire da questa constatazione così amara e anche così pacifica in qualche modo il Signore poi rivela chi è lui la risurrezione e la vita per comprendere bene quanto è grande il dono che ci fa il Signore nella liturgia della parola di questa domenica vediamo come è strutturata questa liturgia sapete che io dico sempre che non io insomma l'ho sentito dire che la liturgia della parola cioè la prima parte della Santa Messa è come un buon pranzo un buon pranzo ha un ordine ha un'armonia non si mangia il primo al secondo poi il primo o tutto in un piatto no noi italiani mangiamo prima antipasto poi il primo poi il secondo e tutto deve essere innaffiato da un vino oggi il giornale di digiuno non ci sta molto sta metafora comunque da un vino che sappia valorizzare il cibi che mangiamo tutto deve avere un'armonia così anche la liturgia della chiesa la chiesa infatti è nostra madre e ci sa sempre servire un piatto delizioso armonico con varie portate così la prima lettura di domenica prossima che apre questa liturgia della parola è il capitolo 37 di Ezechiele profeta Ezechiele anche lì un profeta che è testimone dell'assedio di Gerusalemme della fine della città e dell'esilio ha una visione ed è una visione di enorme desolazione è portato sulla cima di un monte e vede una vallata piena di ossa aride senza vita pensate che è visione di morte e a un certo punto si sente fare una domanda queste ossa potranno rivivere boh signore tu lo sai e vede che queste ossa si rimettono insieme e poi cresce su di esse i nervi la carne e sono un esercito ma non c'è non c'è spirito in questi in questi uomini ben costruiti ma senza spirito dentro senza soffio vitale allora questa voce che lo ha guidato dice profetizza lo spirito cioè ordina che lo spirito invade e dice questi 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 uomini ricevono anche lo spirito e poi dà la lettura l'interpretazione di quello che è successo vedi queste queste ossa aride che vedevi è tutto il popolo di israele che dice noi siamo perduti la nostra speranza è inaridita allora quando il popolo si sentirà così così desolato così perduto così inaridito tu annuncia loro e inizia la lettura di questa domenica io apro i vostri sepolcri vi risuscito dalle vostre tombe voi rivivrete conoscerete il signore e poi ci mette come un timbro l'ho detto e lo farò si prende proprio un impegno forte il signore strapperò dal vostro cuore questa questa aridità questa desolazione fatto che dite non c'è più speranza l'ho detto e lo farò prima lettura il salmo e il salmo 129 il de profundis dal profondo a te grido signore e quest'uomo grida dal profondo e dal profondo spera Agostino commentando questo salmo dice colui che grida dal profondo esce dal profondo invece dice signore in te io spero la mia anima aspetta la tua parola come una sentinella aspetta il sorgere della luce per cambiare turno e per andare finalmente a dormire per essere sollevata dall'ansia di vedere da lontano avvicinarsi dai nemici così io aspetto la tua parola la tua consolazione e poi la seconda lettura della lettera ai romani di san paolo in cui ci dice l'azione dello spirito lo spirito rende attuale fa agire in noi la vita nuova di cristo la risurrezione adesso ascoltiamo insieme vi leggo questo vangelo e poi dico brevissime brevissime parole e poi come al solito concludiamo con questa preghiera di esorcismo che la chiesa fa per liberare dagli inganni del demonio coloro che in questa domenica ricevono la grazia dello scrutino il signore sia con voi e con il tuo spirito dal vangelo secondo giovanni gloria a te o signore in quel tempo un certo lazzaro di betania il villaggio di maria e di marta sua sorella era malato maria era quella che cosparse di profumo il signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli suo fratello lazzaro era malato le sorelle mandarono dunque a dire a gesù signore ecco colui che tu ami è malato all'udir questo Gesù disse questa malattia non porterà alla morte ma è per la gloria di dio affinché per mezzo di essa il figlio del dio il figlio di dio venga glorificato Gesù amava marta e sua sorella e lazzaro quando sentì che era malato rimase per due giorni nel luogo dove si trovava poi disse ai discepoli andiamo di nuovo in giudea i discepoli gli dissero rabbì poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo Gesù rispose non sono forse dodici le ore del giorno se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui disse queste cose e poi soggiunse loro Lazzaro il nostro amico si è addormentato ma io vado a svegliarlo gli dissero allora i discepoli signore se si è addormentato si salverà Gesù aveva parlato della morte di lui essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno allora Gesù disse loro apertamente Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate ma andiamo da lui allora Tommaso chiamato Didimo disse agli altri discepoli andiamo anche noi a morire con lui quando Gesù arrivò trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro Betania distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello Marta dunque come udì che veniva a Gesù gli andò incontro Maria invece stava seduta in casa Marta disse a Gesù signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio Dio te la concederà Gesù le disse tuo fratello risorgerà gli rispose Marta so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno Gesù le disse io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà chiunque vive e crede in me non morirà in eterno credi questo gli rispose sì o signore io credo che tu sei il Cristo il figlio di Dio colui che viene nel mondo dette queste parole andò a chiamare Maria sua sorella ed inascosto le disse il maestro è qui e ti chiama udito questo ella si alzò subito e andò da lui Gesù non era ancora entrato nel villaggio ma si trovava là dove Marta gli era andata incontro allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro quando Maria giunse dove si trovava Gesù appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto Gesù allora quando la vide piangere e piangere i giudei che erano venuti con lei si commosse profondamente e molto turbato domandò dove l'avete posto gli dissero signore vieni a vedere Gesù scoppiò in pianto dissero allora i giudei guarda come l'amava ma alcuni di loro dissero lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse allora Gesù ancora una volta commosso profondamente si recò al sepolcro era una grotta e contro di essa era posta una pietra disse Gesù togliete la pietra gli rispose Marta la sorella del morto signore già manda cattivo odore e lì da quattro giorni le disse Gesù non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio tolsero dunque la pietra Gesù allora alzò gli occhi e disse padre ti rendo grazie perché mi hai ascoltato io sapevo che mi dai sempre ascolto ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno perché credano che tu mi hai mandato detto questo gridò a gran voce Lazzaro vieni fuori il morto uscì i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario Gesù disse loro liberatelo e lasciatelo andare molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che aveva compiuto credettero in lui parola del Signore lode a te o Cristo allora ecco questo Vangelo nel quale il figlio di Dio si mette dinanzi al mistero più grande al mistero della morte tutti dinanzi a questo evento doloroso si prendono una posizione diversa Marta e Maria da una parte esprimono un desiderio un po' deluso se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto dall'altra dall'altra però esprimono anche la fede questo è stupendo cioè le due cose non sono in contrapposizione Marta dice da una parte lo accoglie con questa frase così forte dall'altra dice so che ciò che chiederai Dio te lo darà e Maria gli va incontro e gli si getta ai suoi piedi cioè Maria è sempre con lei che che dà una risposta non tanto di ragione ma di cuore con un amore più grande i giudei che sono venuti al inizio vogliono consolarle poi però quando vedono che piangono piangono anche loro si lasciano trasportare dall'emozione che c'è ma soprattutto fanno una domanda anche loro ma non poteva fare che è la stessa domanda che pongono Marta e Maria ma non poteva fare che non morisse questo i discepoli anche di Gesù all'inizio hanno un rifiuto non vogliono andare signore ma perché dobbiamo andare là ti vogliono uccidere hanno paura della morte non quella di Lazzaro ma quella ma quella di del Signore Gesù e quindi quella loro poi Tommaso dice andiamo anche noi a morire con lui una frase che detta con forza con entusiasmo può essere una frase molto generosa molto forte appunto ma se detta con rassegnazione andiamo pure noi a morire con lui come per di famo pure questa cioè anche loro vacillano tra la paura lo zelo e la rassegnazione Cristo si mette dinanzi alla morte la prima cosa che chiede è dove sei Adamo disse nel paradiso terrestre quando non lo vedeva più perché lo aveva perso dove sei il Signore Dio intuiva che era successo qualche cosa la conseguenza di ciò che è successo in quel giorno ce l'ha dinanzi Cristo e dice dove sei Adamo dove sei e sta a dinanzi la conseguenza ma anche in sé il rimedio dove sei Adamo dove sei Lazzaro dinanzi alla tomba di Lazzaro il Signore ha un fremito cioè un sussulto che lo sconvolge guardate è l'unica volta nel Vangelo di Giovanni nel quale si parla dei sentimenti di Cristo nel profondo del suo interno ed è usato un verbo che è usato soltanto qui in tutto il Vangelo di Giovanni in tutto il Novo Testamento che indica come un rumore un boato un tuono cioè nel cuore di Dio dinanzi alla morte dell'uomo c'è un fremito e un tuono un orrore potremmo dire Dio non tollera questo non t'ho fatto per questo da una parte non t'ho fatto per questo non t'ho fatto per essere chiuso dentro quella pietra e poi un desiderio adesso ci penso io questo fremito e questo sconvolgimento indica questo non t'ho fatto per questo adesso ci penso io e poi questo pianto adirotto che indica che il nostro Dio ha un cuore di carne e poi questa parola potente vieni fuori è il morto che esce e poi Cristo comanda i suoi apostoli di di liberarlo di slegarlo è il compito Cristo ci ridà la vita ma poi comanda alla chiesa di di garantirci garantire la libertà con i sacramenti con la con la parola di Dio con la vita stessa della chiesa che ci lega da tutti i legacci da tutti le bende con le quali ci copiamo Sant'Agostino diceva che questo miracolo di Lazzaro è un miracolo eccellente è il più grande di tutti quanti questo segno e dice può capitare ognuno di noi perché ogni uomo che crede risorge e poi fa un'osservazione nei Vangeli ci sono sono raccontate tre risurrezioni la prima è quella del figlio del capo della sinagoga della figlia del capo della sinagoga una bimba che era ancora in casa e dice questa bimba che è ancora in casa questo corpo senza vita che è ancora in casa e che viene guarito da Cristo è il segno che il Signore ha potere di guarire quei peccati che sono ancora occulti che non ci sono ancora manifestati che sono nell'intimo della nostra casa nel nostro cuore da quei peccati il Signore ci guarisce poi dice che c'è un secondo una seconda richiamo alla vita che è quello del figlio della vedova di Nain che era già fuori la casa e stava andando al sepolcro e dice questo è il caso in cui il peccato da un semplice pensiero diventa un fatto e ci sta conducendo che è un fatto che può diventare una seria abitudine allora in questo caso il Signore ci guarisce e ci consegna di nuovo alla nostra madre che è la Chiesa ma Lazzaro morto e giacente già quattro giorni nel sepolcro è simbolo non tanto di un peccato a livello di pensiero non tanto di un peccato che si è espresso in una singola azione ma è simbolo di una mala consuetudo è tradotto certe volte con la parola un'abitudine perversa che già manda un odore pestifero e per questo il Signore Gesù Cristo di fronte a questo corpo che già da quattro giorni è nel sepolcro quindi questo peccato che è una cattiva consuetudine si turba così fortemente ha lo stesso turbamento dice Agostino quando noi ascoltiamo il Vangelo di Cristo e poi lo disprezziamo o o quando ci capita che appunto l'abitudine perversa si si concretizza nella nostra vita e nel fatto che ricadiamo sempre nella stessa cosa allora di fronte a quando disprezziamo la grazia che Dio ci dona o ricadiamo sempre nello stesso peccato sempre sono parole di Agostino non mi invento io come 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 si comporta Cristo Cristo freme e dice Agostino nella voce di chi freme e la speranza di chi risorge cioè il Signore non banalizza mai il male quello che è male è male cioè c'è tutta la sua forza di fronte al nostro peccato e poi dice ai discepoli togliete la pietra e aggiunge Agostino come sarebbe a dire proclamate la grazia cioè che è possibile essere liberati dalla abitudine più perversa Cristo è la risurrezione e la vita ci dice questo Vangelo coloro che dovevano diventare i cristiani in fondo dovevano fare questa scoperta Cristo è la risurrezione e la vita desiderare essere uniti a Lui nel battesimo per partecipare di questa stessa vita volevo terminare leggendovi una che ore sono ve l'ho fatto leggendovi una piccolissima mancano due minuti dici due minuti in più è Gian Florano qua vicino eh cinque minuti ho finito state calmi mamma mia se ne vogliono andare a cenare è digiuno pure e parlo ancora cinque minuti e Gian Florano non ti porto più e parlo ancora tre minuti e per capire che cosa cioè in fondo questo Vangelo cosa ci dice che l'amore è più forte della morte Cristo per questo non ha bisogno non ha non ha non ha vergogna di manifestare il suo amore per Lazzaro perché l'amore è più forte della morte e mi colpiva tantissimo nelle settimane scorse leggere una pagina di Viktor Frankl che era sapete ha scritto uno stupendo libro che si chiama uno psicologo nei lager lui venne veramente incarcerato per tre anni in un lager nazista e e poi una volta uscito scrisse un libro che è tutta la sua esperienza di 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 psicologo nei lager di prigioniero che è riuscito in questa esperienza così drammatica a scoprire delle cose fondamentali per 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 la professione che ha esercitato in seguito e lui dice una cosa che quando era condotto ai lavori forzati un lavoro durissimo d'inverno con un freddo boia con una con un una una paura costante di essere ucciso dice io mentre cammino verso il luogo di questo lavoro così duro io nel mio cuore parlo con mia moglie la sento rispondere la vedo sorridere dolcemente vedo il suo sguardo ed un tratto un pensiero mi fa sussultare per la prima volta nella mia vita provo la verità di ciò che per molti pensatori è stato il culmine della saggezza ciò che molti poeti hanno cantato sperimento in me la verità che l'amore è il punto più alto al quale un essere umano possa innalzarsi comprendo ora il senso del segreto più sublime che la poesia il pensiero umano e la fede possono offrire la salvezza delle creature viene attraverso l'amore capisco che l'uomo anche quando non gli resta nulla può sperimentare la beatitudine suprema seppur per qualche attimo nella contemplazione interiore dell'essere amato nella situazione esterna più misera che si possa immaginare nella condizione di non potersi esprimere attraverso l'azione quando la sola cosa che si possa fare è sopportare il dolore con dirittura ebbene anche allora l'uomo può realizzarsi in una contemplazione amorosa nella contemplazione dell'immagine della persona amata che porta in sé si rià un attimo da questo da questo pensiero cioè che dice chi ama ha in sé un tesoro inesauribile che neanche la situazione esterna più drammatica gli può togliere e continua io parlo con lei e lei parla con me con la moglie in quell'attimo mi turba un pensiero non so affatto se mia moglie sia viva e capisco una cosa che l'amore non si riferisce affatto all'esistenza corporea di una persona ma intende con profondità straordinaria l'essere spirituale della creatura umata il suo essere così in quel momento scopri la verità delle parole del cantico dei cantici mettimi come sigillo sopra il tuo cuore perché forte come la morte è l'amore cioè già nell'esperienza umana si può vedere questo cioè che l'amore è forte come la morte cioè che che un attimo intenso di amore dà senso a una situazione disperata e che anche non importa poi così tanto la sussistenza in vita della persona amata quanto il fatto che l'ho amato perché quell'istante rimane per sempre l'amore è forte come la morte ci dice l'esperienza umana conoscere Cristo e fare un passo avanti che l'amore è più forte della morte se siamo definitivamente amati dal figlio di Dio allora il nostro destino la nostra vita è eterna questa è la grande rivelazione che che ci fa questo Vangelo allora concludiamo con questa preghiera che fa che fa la la chiesa e preghiamo soprattutto per per Don Alessio che è un amico di Don Francesco Indelicato che è un giovane sacerdote che è stato ricoverato in terapia intensiva preghiamo per lui lo facciamo con la preghiera che la chiesa fa in questa domenica per liberare coloro che si presentano al battesimo dalle seduzioni del maligno preghiamo o Dio padre della vita tu sei il Dio non dei morti ma dei vivi e ha inviato il figlio tuo come messaggero della vita perché strappasse gli uomini al regno della morte e li conducesse alla risurrezione liberaci dal potere dello spirito maligno perché possiamo ricevere la vita nuova in Cristo risorto e gli rendiamo testimonianza con le opere e gli vive e regna nei secoli dei secoli Amen Signore Gesù che risuscitando Lazzaro dalla morte hai rivelato di essere venuto perché gli uomini avessero la vita e l'avessero in abbondanza liberaci dalla morte a noi che cerchiamo la vita nei tuoi sacramenti allontanaci lo spirito del male e per mezzo del tuo spirito datore di vita comunica a noi la fede la speranza e la carità perché viviamo sempre uniti a te e abbiamo parte alla gloria della tua risurrezione tu che vivi e regni nei secoli dei secoli Amen Signore sia con voi vi benedica e Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo Amen Buona serata a tutti quanti e ci vediamo venerdì prossimo Grazie a tutti Grazie a tutti